Ciao, benvenuto. Io sono Manuela e io sono Giancarlo. Siamo i fondatori di Angeli Cristallini. Chi sono gli Angeli Cristallini? Innanzitutto voglio farti una domanda. Ti sarai chiesto più volte come cambiare la tua vita, come migliorarla, come raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi e come guarire all'interno di essa tutto quello che deve essere guarito e sistemato. Ecco, noi possiamo aiutarti. Come? In che modo? Innanzitutto ti chiediamo di scaricare la meditazione gratuita che troverai nel nostro sito e di compilare il PON. Attraverso questo processo noi riusciremo ad aiutarti a guarire, a migliorare la tua vita attraverso l'aiuto di energie esterne, di energie meravigliose, degli Angeli. Sicuramente avrai già sentito a parlare di loro. Gli Angeli sono degli aiuti, degli aiutanti, degli assistenti, delle energie, chiamali pure come meglio preferisci. Ma il compito principale è quello di aiutarci a comprendere maggiormente noi stessi e a cambiare la nostra vita in meglio e a sistemare e a guarire tutto quello che deve essere guarito all'interno e all'esterno di noi stessi. Allora, che cosa significa pure la tua rigione? Affrontiamolo sotto la tematica della nostra capacità di armonizzare tutte le nostre questioni conflittuali dentro di noi e cerchiamo di capire sotto un profilo anche scientifico che cosa sia veramente l'Angelo, ovvero anche l'Angelo Custode, per esempio, che potrebbe essere praticamente la proiezione inconscia attraverso la nostra mente di ciò che rappresenta tutto il meglio di noi stessi, con tutte le nostre caratteristiche più avanzate, più evolute, che ci porta poi una risposta a capire poi le origini delle nostre problematiche, i nostri meccanismi di blocchi inconscii. E quindi potrebbe essere noi che specchiamo praticamente quella parte migliore di noi stessi che serve come contenito e inconscio che ci porta a trovare la migliore risposta e soluzioni per noi stessi, in coerenza a ciò che va risolto nella nostra vita quotidiana, che parte sempre da noi per la consiglia. Bene, ti stavo dicendo, puoi scaricare tranquillamente la nostra meditazione gratuita, che cambieremo di volta in volta. In questo momento c'è quella di un informi, che è una bellissima meditazione. In più ti chiediamo di compilare questo format e ti terremo informato e aggiornato su tutte le nuove iniziative che Angeli Cristallini hanno per te. Ti aspettiamo, a presto! Un abbraccio angelico! Ciao a tutti!